E' arrivato il momento di presentare di tutte le persone che sono state con noi qui questa sera E' arrivato il momento di presentare di tutte le persone che sono state con noi Auf den Bühne Many guests, molti ospiti speciali questa sera E iniziamo da loro Aus di Schweiz Von di Schweiz, si hanno ballato dalla Svizzera Joel und Sabrina E' un inchino E' due anni che si hanno già fatto qui, due anni fa avevano ballato E quest'oggi, due anni spettere, vivere in Noia Galanti Arena E' un grande, grande, grande applauso Grazie Ok, ok, ok Andiamo avanti Lei viene da Friuli Si come aus San Daniel Fagagna Fagagna, aus Udina Si ha una super stima Ha una voce meravigliosa Questa sera ha cantato dal vivo Si ha il grosso applauso E' un grosso applauso Per la nostra meravigliosa Nicole Vailichi E andiamo avanti, andiamo avanti E' stato anche lui in ospite questa sera E' un super friend E' un grandissimo amico E' un secondo chief in André Camping Village E' il vice capo in un villaggio con vicino E' un super ballerino Super Thunder E' Ervarnia Animatore Rai Arezuro Che è stato animatore quattro anni fa Ha fatto le bolas col cuoco Feuer bolas Feuer Spooker Thunder Alles Immenso Un grandissimo applauso Super Fabri Borja Grande fan E andiamo con il nostro staff Del parco all'anti Iniziamo da lei Lei è la nostra ragazza Miniclub Il nostro cartone animato Usare Cartoon Usare Miniclub Girl Usare Thunder In un telebambola Pop it One big applause For Roby Cardoffi E' lui il nostro DJ Il nostro uomo dal bastone di foglio Fuoco di fuoco Di fuoco Usare Feuer Stigma Usare Super Sport Animatori E' rinpargallanti Ha preparato i materiali Un grosso applauso Un grandissimo applauso Per il nostro Super Franci Cinghio Marcello Per il nostro La nostra fitness animatore, la nostra ragazza fitness, siete oggi getanzo con Fluo Shoe. Siete getanzo con Fluo Costum, si ha ballato questa sera qui. Un grandissimo applauso, un grosso applauso. Veronica Elettricchi, Elettricchi, Raspalicchi, Magician, 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 El Mago, tutti da Riali. E bravissima, e andiamo avanti, andiamo avanti. Lei, lei, lei è la nostra responsabile, miniclub, sie istruzze miniclub responsabili. Il mio braccio destro, main in rex, arme, costumista, ha ballato, sie hat fly nummer mit shadow gemacht. Ha fatto il ballo, la coreografia all'ombra, dentro il cuore, in earth. Ha lasciato il cuore sul palco questa sera. Andrea! Vai, Andri! E adesso siamo arrivati a lei, il fenicottero del Par Gallanti. Esiste Flamingo del Par Gallanti. Il Cigno anche. Siamo oggi, hier, gettanzi. In un sero frontino, in un sero frontino, in un sero frontino, in un sero frontino, in un sero frontino. Ha coreografato il jive con le scarpe fluo. Ha fatto la coreografia sulla schitarrata. Lei ovunque la potete trovare in reception, la potete trovare a fare lo sport. Ha avuto un sero fin di essere responsabile. Una grande applauso per Rita! Adesso, gentili signore e signori, vorrei chiedere un applauso enorme per il nostro capo. animatore che ha organizzato tutto, ha fatto tutto e ha chiamato tutti i nostri ospiti per stasera. e mettere il suo cuore, mettere il suo, mettere la sua anima, come si chiama lui? Dario! Grazie! Avete un applauso per Dario! Grazie, Dario, grazie! Grazie, Dario! Grande, Dario! Arriva lentamente, arriva! Applauso! Bravi, 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 bravi a tutti, bravi a tutti, e comunque mi corre l'obbligo questa sera di salutare personalmente un nostro grande, caro, caro amico e animatore che ha detto che quest'anno vado da un'altra parte perché non è che il Pargalante mi piace a parte. Fabrizio, grazie! È sempre un piacere! È un'abbiamo iscritto, quando uno di nostri animatori è qui, in Pargalanti, è un'abbiamo, è un'abbiamo! È una un'abbiamo? Perché è un'abbiamo? E che diceva che è il mio animatore è il mio animatore. E ovviamente ringrazio tutti quanti voi! Ma ringrazio a Nicole che ha cantato così bene e aveva promesso al direttore che quest'altra volta canterà Romagna Mia. Grazie a Nicole, che è così bello, che hai chiesto per noi e un ringrazio grazie a Nicole. E che devo dire, che devo dire, queste ragazze sono meravigliose. Voi, 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 per favore, avanti. Grazie, grazie. Al team meraviglioso che quest'anno mi trovo qui al villaggio. Un wundere, un speziele, un elfiche, un wunderschön, un, d'altro, con il beste team dell'animazione che ho avuto qui. Un grazie, un grazie, un grazie di cuore, Roberto, Francesco, per ora, Roberto. Andrea, allora, due volte d'aperta. Rita, grazie. Ti abbraccio perché non è possibile. Grazie, grazie. E allora noi ringraziamo di cuore il direttore Mauro. Grosse Dankeschön, che ci sopporta. Diamo fuoco al villaggio. E noi vogliamo ringraziare tutto lo staff. E le grosse Dankeschön su Alle Camping Staff. Lo staff del ristorante di Sergio. La manutenzione, i bagnini, tutti quanti che vendono la vostra vacanza quello che è bello e ci aiutano anche. Ma il più grande applauso, il più grande grazie, di grosso, di grosso danke und di grosso applauso ist per voi. E per voi, das war io. Mi trusto, grazie. Dankeschön, bei Er, grazie di cuore. Adesso, visto che siete qua... Grazie. Grazie. Grazie.